Un notebook e uno smartphone, due dispositivi molto diversi tra loro che non per forza di cose debbano dialogare, ma se quelli in questione si chiamano Samsung Galaxy Z Flip 3 e Samsung Galaxy Chromebook Go, beh, quel Galaxy vuol dire solo una cosa, che c'è un ecosistema tra di loro e tra tutti gli altri prodotti Samsung e non solo, che gli permette di coesistere e di interagire l'uno con l'altro in modi che aprono scenari di utilizzo sempre più interessanti e sempre più semplici per gli utenti. Vediamo qualche esempio. Voglio partire proprio dall'inizio per farvi vedere quanto sia semplice entrare nel mondo dei Chromebook e di Chrome OS, molto più semplice, secondo me, che con qualsiasi altro sistema operativo abbiate mai sperimentato. Guardate, come iniziare? Prima cosa, ok, collegarsi ad una rete Wi-Fi. Una volta collegati, dovete solo accettare i termini di servizio. Il sistema verifica l'eventuale presenza di aggiornamenti e configura tutto, da solo e in un attimo. Come vedete, è possibile proprio fin da subito creare un account, diciamo, per adulti oppure per bambini e ragazzi, in modo da limitare le funzionalità del dispositivo nel caso voleste darlo ai vostri figli. Questo proprio per ribadire come il Chromebook sia davvero un dispositivo pensato per tutta la famiglia, anche perché poi potete creare più account in modo che persone diverse lo possano utilizzare senza alcun problema. A questo punto, l'unica cosa che dovete fare è inserire il vostro indirizzo mail, il vostro account Google necessario per la configurazione e il gioco è fatto. Ecco qua. Le applicazioni, le impostazioni e gli altri dati sono tutti sincronizzati, le eventuali password preferiti e cronologia del vostro browser Chrome che avete magari installato su un altro PC sono tutti sincronizzati e subito pronti all'uso. Ultimi termini di servizio per utilizzare anche il Play Store Android, perché qui ci sono tutte le applicazioni Android disponibili e pronte da scaricare subito anche sul vostro dispositivo portatile e in questo modo avrete un'esperienza software davvero completissima. Prima di concludere, una funzione che adorerete, il collegamento del telefono. Lui riconosce automaticamente quelli che sono i vostri smartphone e infatti subito mi propone qui il Galaxy Z Flip 3 5G e potete sincronizzarlo in maniera davvero istantanea e davvero molto efficace. Guardate, così, senza colpo ferire, Z Flip 3 5G e il Chromebook sono collegati tra loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che con il telefono vicino potete sbloccare il Chromebook, vuol dire che c'è il tethering istantaneo in modo da condividere la connessione del vostro smartphone con il laptop, così che possiate navigare sempre e dovunque, c'è la sincronizzazione dei messaggi sms che è davvero semplicissima da configurare. Basta premere sul pulsante ed inquadrare un QR code con l'applicazione messaggi presente sullo Z Flip 3. Selezionate la scansione, inquadrate il codice QR e vedete che veramente in un lampo gli sms che arriveranno sul vostro smartphone saranno sincronizzati col vostro pc e potrete non solo leggerli ma anche rispondere. E non solo, potrete anche vedere tutte le notifiche che arrivano sullo smartphone direttamente sul notebook in modo da non dover stare continuamente a tirarlo fuori di tasca. Lo potete tenere riposto dove volete e avrete anche le schede di Chrome recentemente aperte sul vostro telefono sincronizzate con il vostro pc. E infine anche le password wifi memorizzate sul telefono sono subito sincronizzate con il computer in modo che non dobbiate reinserirle ogni volta che vi collegate a reti wifi che per voi sono note. Ecco un esempio pratico, da qui posso attivare o disattivare l'hotspot con il mio dispositivo mobile, disattivarne l'audio e anche localizzarlo facendolo suonare. Facilissimo! E ho accesso appunto alle schede recenti di Chrome aperte, alla batteria residuo del telefono, tutta una serie di informazioni su di lui che posso avere anche tenendolo riposto altrove e basta che sia diciamo a portata del segnale bluetooth. E con SmartThings, l'applicazione di Samsung dedicata alla gestione della domotica e dei dispositivi connessi, potete controllare dal vostro Chromebook o anche dal vostro smartphone qualsiasi dispositivo vogliate. Guardate, ce ne sono tantissimi per farvi degli esempi, asciugatrici, lavastoviglie, lavatrici, robot per le pulizie e ancora se scorro più in basso abbiamo poi sensori di ogni tipo, luci, insomma tutto quello che c'è nella vostra casa connessa può essere controllato dal vostro notebook o anche dal vostro smartphone. Questo qui è un telecomando per la tv che in questo caso si trova a casa mia, quindi nemmeno in questa stessa stanza. Ovviamente lo posso utilizzare anche qualora fossi di fronte al televisore stesso senza bisogno di prendere il vero telecomando che magari sarà irrimediabilmente perso sotto qualche cuscino, come sempre. E infine, guardate questa chicca. Telefono chiuso e in stand-by Ehi Bixby Scatta un selfie Eccolo qua. Solo con il controllo vocale e Bixby, l'assistente vocale di Samsung, interagisce con SmartThings e quindi vi permette di controllare con la voce gli stessi dispositivi che avete accoppiato nell'applicazione che quindi diventano ancora più facilmente accessibili soltanto con il tono della vostra voce e tra l'altro, come avete visto, funziona anche quando lo smartphone è in stand-by e con quello potete controllare tutto quell'elenco sterminato di dispositivi che abbiamo visto poco fa. Ok, allora tutte le interazioni con lo smartphone, la condivisione degli SMS, le notifiche, ma se volessi semplicemente scambiare dei file tra computer e telefono, come devo fare? Semplicissimo, condivisione nelle vicinanze. Interfaccina semplice che vi spiega come funziona Date un nome al vostro Chromebook o lasciate quello predefinito Scegliete se scambiare con tutti i contatti o soltanto con alcuni Volendo potete anche rendervi disponibile a qualsiasi dispositivo nelle vicinanze anche a quelli che non fanno parte dei vostri contatti perché magari volete scambiare file con un collega o un amico che non necessariamente fa parte della vostra rubrica e a quel punto prendete il file che volete condividere, per esempio, anche su un telefono Scegliete condivisione nelle vicinanze Aspettate un pochino Trova il Chromebook Connessione Eccolo là Accettate? Accetto Nel giro di poco il file è arrivato e pronto per essere utilizzato Insomma, che si tratti di comunicare tra lui e lui Oppure che si tratti di comunicare tra lui e televisori, apparecchi domestici, sensori È tutto semplificato dal fatto di passare per SmartThings e per l'ecosistema Samsung In questo modo la vita dell'utente diventa più facile perché una volta che vi siete abituati al vostro smartphone a come funzionano le applicazioni su di lui Voi vi ritroverete a casa anche con dispositivi completamente diversi Perché comunque questi hanno imparato a dialogare tra di loro E voi potete magari sbloccare delle funzioni di controllo remoto che altrimenti sarebbero impossibili Potete regolare la temperatura di casa quando non ci siete Potete controllare quello che c'è nel frigo quando non siete a casa Potete anche accendere la televisione Come abbiamo visto, insomma, potete fare tante cose proprio grazie al fatto che i vostri vari dispositivi Samsung comunicano tra di loro e vi permettono di controllarli in maniera centralizzata da smartphone, da Chromebook o anche con la vostra voce Questa è indubbiamente una comodità Una comodità che, se ci pensate bene solo Samsung può offrire nel panorama dell'elettronica di consumo perché nessun'altra azienda produce dispositivi così disparati così diversi l'uno dall'altro non solo smartphone e notebook non soltanto con Chrome OS ma anche tablet, smartwatch, televisori appunto abbiamo visto tanti elettrodomestici diversi sempre più connessi frigoriferi, lavatrici, forni, microonde sensori di ogni tipo, condizionatori il campanello intelligente poi si va ad interfacciare anche con dispositivi terzi SmartThings si interfaccia con dispositivi che non per forza sono di Samsung ma che controllerete comunque sempre dal vostro smartphone o dal vostro Chromebook e in questo modo diventa tutto più semplice tutto più centralizzato tutto più sempre nelle vostre mani bene o male se in questi giorni si parla tanto di ecosistema è perché comunque apporta un vantaggio per l'utente quello che avere tutti i dispositivi che dialogano tra loro ne rende più semplice il controllo e anche più rapida la curva di apprendimento perché bene o male si tratta sempre della stessa applicazione che vi permette però di comunicare con tanti dispositivi diversi al fine bene o male di semplificare la vostra vita spero che questo video vi sia stato utile che vi abbia magari offerto qualche spunto di riflessione sui prodotti che forse già avete e su quelli che potreste acquistare in futuro oltre alle informazioni come sempre su smartworld.it da parte mia un saluto e alla prossima